cosa ne pensi del letto benissimo è favoloso alto così ci sta qua sarà il tu da che parte dormi siccome c'è solo un letto dove ok io dormo di là qua c'è un cassetto non c'è niente poi c'è l'armadio che ha un piccolo segretino oddio non riesco a dirlo scomoda sta maniglia io che ho le unghie tutte mangiate ce l'ho fatta la cassaforte la posso chiudere si apre con la targhetta no che codice si no è un po aperta non si riesce a chiudere in realtà di aprire l'armadio ma non riesco non mi aiuti vabbè tanto vuoto e qua c'è la finestra con un bellissimo panorama delle che spiamo i vicini spiamo i vicini sì e voi sotto vedi se ci buttiamo ci sono le piantine bello lì carina sta casa sì perché qua dovete sapere che tutto super vintage tutto vecchio c'era la prigione con ancora le catene tutte arrugginite veramente figo